In questa rivistazione dell'esercizio sulle immagini e in questo senso la visione del video precedente è proprio ideotica per poter seguire questo vorremmo spostare un po' più in alto l'asticella della complessità ma anche della flessibilità con l'idea di non essere limitati nel numero di picture box su ogni colonna ma di dare la possibilità al programma stesso di essere parametrato, configurato per gestire e mostrare un numero qualunque di picture box, 2, 7, tutto senza poi costringere il programmatore a rimettere mano al codice significa che è il programma che dovrà crearsi da solo via codice il picture box e agganciare sempre da codice e sempre a programma funzionante i gestori dei click e in questo senso il progettino del game diventa ora un pretesto per approfondire la creazione a runtime di oggetti dei componenti che devono essere visualizzati sull'interfaccia iniziamo allora a liberarci di questi componenti disposti in modo fisso facciamone in modo corretto per non incappare poi in problemi di compilazione e cioè prima sganciamo i picture box di destra dal loro gestore del click andiamo qui, fate un solo click perché con il doppio andreste nell'editor ok, semplicemente così anzi potremmo farlo anche selezionando, tenendo premuto il control o il shift qui per tutti e due insieme ok adesso cancelliamo tutti i picture box gli altri elementi dell'interfaccia non ha senso, se non per sfizio, farli creare programmaticamente e decido quindi di lasciarli ora alla partenza dell'applicativo, potremmo metterci nel solito metodo form load dovremo provvedere a creare dinamicamente il numero desiderato dei picture box per ogni colonna ed è l'occasione perfetta per spiegarvi come creare una prima form che fa da ingresso al gioco e qui mettere un controllo con cui indicare con quanti picture box giocare per volta il budget e i dati fissi insomma poi un bel bottone bello grande col quale iniziare a giocare da quella prima form si arriverà a questa e di conseguenza dovrò anche spiegarvi come si passano dati tra una form che ne apre un'altra e magari tra questa seconda alla prima quando viene chiusa un po' come accade con una funzione quando la chiamo e poi mi aspetto di ricevere di ritorno un qualche valore aggiungiamo una form al progetto lo facciamo da qui, col clic destro aggiungi form, windows form chiamiamola start con la lettera maiuscola clic su aggiungi, non basta dobbiamo dire all'applicativo che questa è la form con la quale iniziare l'esecuzione apriamo e modifichiamo il program CS perché è qui nel metodo statico run della classe predefinita application che si sceglie da cosa partire, da quale form non un new form 1 ma la nostra nuova fiammante start per poter provare dobbiamo però prima neutralizzare alcune righe nel form 1 CS che al momento danno problemi perché abbiamo cancellato i feature box cioè questo blocco qui CTRL KC e poi quella queste poi ovviamente le riattiveremo ecco ora dovrebbe partire e proporci la start adesso qua ci mettiamo un minimo di interfaccia con la scelta del numero di feature box e ci siamo ah già dimenticavo dobbiamo spostare anche il budget da qui alla nuova forma poi aggiungiamo un controllo tipo il numeric up down per tirarcela un po' ingrandiamo il carattere copiamo l'etichetta questo diventa il numero di immagini impostiamo magari il valore di default a 3 significa parametrare le due variabili beh quantomeno il minimo a 3 e boh se vogliamo fissare un massimo so 10 diamo anche un name numero immagini numeric up down poi ci mettiamo un bel bottone per partire qui belli generosi con la dimensione 40 ecco così mi piace ne va da sé che dovremo trasferire in questa form anche i controlli sul budget e se ricordate alcuni controlli facevamo abbandonando la casella budget e altri invece arrivando sulla casella della puntata ok dobbiamo trasferire questa cosa qui allora budget leave e qui andremo a incollare il codice del leave vecchio lo prendiamo e lo copiamo qua in start c sharp nel metodo corrispondente per fortuna nel taglia e incolla in questa form sono stati mantenuti i nomi dei componenti e quindi anche il codice è già pronto adesso facendo clic su gioca dovremo trasferire alla vecchia form questi dati cioè sia il valore del budget che il numero delle immagini attiviamo allora il metodo clic del bottone gioca questo deve preoccuparsi di creare un'istanza di questa form per giocare è un oggetto un oggetto della classe form1 quindi creiamo una istanza della forma principale di gioco è di tipo form1 è visibile è disponibile form1 form chiamiamo form gioco uguale a una new form1 poi dobbiamo visualizzarla form gioco punto show abbiamo due possibilità show e basta e show dialog e per noi in questa situazione è meglio show dialog perché così una volta aperta la seconda form del gioco l'utente non potrà pasticciare con quella che sta sotto quella in cui abbiamo inserito il budget e scelto il numero delle immagini per intenderci dovrà prima terminare il gioco chiudere la finestra del gioco e allora potrà tornare a cambiare il budget o il numero delle immagini e far ripartire il gioco scegliessimo invece il semplice show allora potrebbe usare le due finestre in contemporanea creando casini in altre situazioni show potrebbe essere invece perfetta immaginate una tavolozza per scegliere i colori o i font che è molto comodo avere sempre aperte e attive insieme alla finestra principale non possiamo ancora provare perché avendo spostato in start il budget adesso c'è di nuovo del codice qui che faceva il budget e che non funziona per non dover ritoccare il codice potremmo aggiungere come variabile proprio un finto budgetxt così ci mettiamo qui è un testbox budgetxt uguale new testbox e gli errori sono spariti poi tenteremo il colpaccio cioè di fare in modo che quando parte la form del gioco questo secondo budgetxt punti in qualche modo a questo così in modo trasparente avremo fatto la sostituzione vediamo intanto se parte la form del gioco eccola qui provo a fare click su gioca ignorano l'errore che adesso non è ancora gestito correttamente show dialogue vedete che se tento di interagire con quella che sta sotto non si può devo prima chiudere questa e poi posso eventualmente rigiocare dopo aver reinserito un budget adesso poi sistemiamo questa cosa ok dai che procediamo bene sapete che forse conviene spostare questi controlli qui nel click anche perché poi gli altri sarebbero fatti quando si arriva qua sulla puntata sposto quindi se il valore è positivo e almeno 11 si va avanti a giocare altrimenti il messaggio d'errore lo mettiamo qua ecco proviamo ok ho inserito 100 ma è uscito ancora il messaggio ma non è il click di questo bottone che l'ha emesso sono ora di troppo i controlli che abbiamo fatto all'ingresso sulla puntata txt i controlli fa infatti il bottone gioca togliamo tutto anzi focus e select all mettiamoli in start dove si emette il messaggio d'errore quando si sbaglia e di qui proprio sganciare il metodo adesso li cancello questi due provo a compilare per vedere se c'è qualcosina da sistemare momento no se ora sbaglio messaggio d'errore torno qua selezione automatica riprovo va bene saremo già pronti per fare la puntata insomma adesso è arrivato il momento di sistemare la faccenda ma com'è che da qui trasportiamo sul gioco il budget e il numero delle immagini è facile passeremo questi dati al costruttore della form di gioco per farlo dovremo però aggiungere al costruttore questi parametri vado allora su form c1 nel costruttore al momento non ha parametri e quindi aggiungo quelli che mi servono dalla prima form arriveranno un riferimento al test box col budget e non passo direttamente il budget perché questa form ha il vecchio codice che si aspetta di lavorare con il budget che ora non c'è più ma ricorderete che abbiamo messo una variabile test box nelle variabili del form 1 useremo quello e siccome il nome che abbiamo scelto è lo stesso budgetxt il codice della form penserà di stare ancora a lavorare con la vecchia casella budgetxt anche se triangoleremo in realtà su quella che si trova sulla nuova form quindi un test box tb poi il secondo parametro deve essere un decimal perché decimal è proprio il tipo del numeric up down è un tipo di dato che permette di memorizzare con molta precisione quantità anche molto grandi assegniamo allora i due parametri alle variabili dello stato interno la seconda realtà manca per quelle che ne sapete voi è il numero mg che ho aggiunto sopra ovviamente di tipo decimal rimane un particolare da sistemare lì dove si invoca proprio il costruttore dobbiamo aggiungere i parametri adesso previsti siamo nel metodo click dell'altra form il primo come lo abbiamo capito è riferimento alla casella budgetxt e il value della numeric up down vedete che è proprio un decimal quel value verifichiamo il passaggio mettiamo qui un breakpoint nel costruttore 999 3 immagini gioca budget lo vediamo già nell'anteprima è come se avessimo messo qui quel budgetxt non abbiamo fatto una copia perché si tratta sempre di riferimenti sono tutti puntatori mascherati è tutto dinamico in csharp questo budgetxt è un riferimento che punta all'oggetto budgetxt della form da cui si proviene che abbiamo ricevuto nel costruttore di questa form tramite il parametro visto prima per valori invece predefiniti come il decimal beh no viene creata proprio una nuova variabile decimal che è una copia dell'originale mi spiego se io qua nel costruttore della seconda form che si apre txt andasse una modifica alla proprietà text di quello che potrebbe sembrare a questo punto un oggetto di questa seconda form in realtà essendo questo un riferimento al budgetxt dell'altra form quello che succede è come potete anticipare a questo punto clicco arrivo qua metto z e cambia questa budget abbiamo quindi inviato al costruttore di questa seconda form un riferimento un puntatore a questo oggetto testbox questo comportamento ci sta molto bene perché in effetti è come se questo budget fosse ancora sulla seconda form e il resto del codice letteralmente non si accorge pensa di lavorare ancora con una casella di testo come se questa fosse ancora qui a fianco della puntata e così non abbiamo dovuto modificare nulla nel resto del codice dobbiamo ora vedere come si creano a runtime al volo i picture box e agganciare poi anche il metodo click spostiamoci allora nel form 1 load lì dove col vecchio progetto andavamo a creare i tre picture box facciamolo da codice preparo per comodità queste due costanti numeriche intere che serviranno calcolare la spaziatura e la posizione dei picture box perché dovremmo dire dopo averli creati dove collocarli sulla forma l'idea è di lasciare appunto quei 30 pixel tra un picture box e quello che segue sotto poi un ciclo di creazione per tante volte quante sono le immagini previste per il gioco cioè nella variabile numeri mg ricevuta quel decima ricorderete dalla prima forma come fatto tante volte per le nostre classi creiamo un oggetto di classe picture box poi configuriamolo il name che avremmo messo a mano no? beh è destra 1 pb destra 2 e 3 pb ok dollaro per poter mettere poi nella stringa delle espressioni con riferimenti a variabili destra che è la parte sempre fissa poi che deve essere zero spaziatura lo vedete qua quando moltiplico per i per calcolare la posizione allora che sia zero per il primo mi fa comodo preferisco allora aggiungere un più uno qua nel name poi la parte che segue sempre fissa underscore pb qual è l'immagine? beh andiamo a prendere dal vet immagini di anche qui mi fa comodo in effetti che parte da zero il size mode la dimensione è la property size da valorizzare con oggetti tipo size non ci stupisce larghezza altezza ho scelto a caso il tipo del bordo la posizione la posizione è un point che ha una x e una y la x siamo sulla destra perché stiamo gestendo la seconda colonna la di destra ho deciso 400 e qui una formuletta che dice beh ogni volta mi devo spostare alla posizione verticale pari a quanto è alto un picture box che è 115 di prima più la spaziatura e i pixel 30 pixel moltiplicato per la i la prima volta questa prima parte darà zero in effetti voglio mettere il primo picture box in alto a sinistra però non appiccicato al bordo della finestra ecco perché ho aggiunto questo margine che sarà sempre raggiunto il secondo picture box prenderà l'altezza del picture box 115 più quei 30 145 per 1 e quindi sposterà in basso dalla giusta spaziatura e aggiungerà il secondo picture box e così via non dimentichiamoci però di associare l'evento click a ciascuno di questi picture box lo sto facendo qui scopriamo che è molto facile perché ogni componente ogni oggetto ha una property per ciascuno degli eventi che può controllare punto click sto memorizzando un riferimento al metodo quindi è un puntatore a funzione se lo pensassimo alla c++ il nome del metodo è quello che abbiamo scritto qua sotto lo stesso dell'altra volta è il pbclick invece di agganciarlo a mano qua dall'interfaccia facciamolo col codice non è che sia poi così complicato un po' come l'ed event listener da javascript se volete non basta dobbiamo inserire questo nuovo componente questo controllo visuale in quelli della form la form ha una proprietà controls e siccome questo metodo che stiamo scrivendo è uno di quelli della form basta scrivere controls non c'è bisogno di mettere davanti form il nome dell'oggetto insomma add cosa il picture box che abbiamo appena creato e configurato proviamo perfetto provvediamo adesso alla prima colonna del picture box beh è sufficiente replicare in pratica il ciclo dopo aver mischiato le immagini altro giro dunque vediamo di non casinarci sempre per tot numero img questo va bene però questo sarà un sinistra questo va ancora bene questo va bene questo va bene alla posizione dobbiamo stare attenti dobbiamo spostarci a sinistra stiamo sul 100 ok e poi non dobbiamo associare assolutamente nessun click adesso giusto per vedere se li crea perché poi dovremo nascondere l'immagine quindi questa parte qua dovremo disabilitarla proviamo occhio direi che ci siamo le immagini sono le stesse solo mischiate come previsto spostiamoci nel click al punto in cui il pc deve scegliere la sua immagine eccoci potremo fare una grossa semplificazione a livello di codice tutta la parte che ho commentato è lì a testimoniarlo perché in base al numero dell'immagine scelta ricostruiamo il name che abbiamo dato al suo picture box e lo andremo a recuperare usando il metodo find sul lenco dei controlli questo accetta una stringa di ricerca anche parziale potrei trovare i riferimenti a quei 3 4 5 controlli il cui nome inizia per ad esempio qua ovviamente il nome è completo è univoco e anche se il metodo find ci istituisce un array comunque noi andremo a prendere la sua componente 0 cioè il primo risultato che poi sappiamo come si diceva essere anche l'unico in questo caso è il nostro picture box il secondo parametro del find quel true sta a indicare se o meno cercare proprio in tutti i figli i children come controlli sul riferimento ottenuto che ho memorizzato in quel pb cliccato ovviamente tipo picture box andremo poi a impostare l'image location con il nome dell'immagine scelta scendiamo dopo aver determinato se abbiamo vinto o perso quella parte qua rimane la stessa dopo il delay all'image location del picture box cliccato un secondo e mezzo fa assegniamo la stringa vuota l'immagine scomparirà notate sotto ancora un bel po' di codice commentato prima del test finale tolgo questo 500 30 punto sulla foca accidenti sì forse avere il budget qui vicino alla puntata è meglio beh ormai è fatta puntiamo 500 che non abbiamo va bene adesso 4 immagini le ho quindi posso provare a giocare con 4 picture box forse dovrò ingrandire un po' la finestra di gioco anzi potremmo ridimensionarla in automatico anche lei basta andare a lavorare con width e height della form 1 e lavorare anche sulla posizione della casella di testo per la puntata la sua etichetta l'etichetta col messaggio è vinto e perso dobbiamo adattare tutto in modo dinamico dai proviamo a farlo eccoci nel form 1 load height è qua dalla form prendo è un decima lo devo trasformare in un int il numero delle immagini lo moltiplico per 145 che tiene conto del 115 che è l'altezza di ciascun picture box più i 30 di spaziatura in verticale più una fascia per metterci la test box della puntata l'etichetta e l'etichetta con il risultato vinto o perso a spanne poi imposto la posizione della test box per la puntata la x rimane quella che ha già infatti riprendo della sua location la sua x come nuova x del punto che assegno come nuova location mentre in verticale mi sposto verso l'alto di 70 pixel rispetto al bordo della finestra height meno 70 un po' più su meno 85 vado a piazzare l'etichetta con la scritta puntata eh la pigrizia se invece di label 2 avessi scritto puntata label sarebbe più chiaro no? come ho fatto peraltro per l'etichetta hai vinto e perso in rosso che è risultato label la sua location diventa questa un ultimissimo particolare mi era sfuggito sono sincero mi sono accorto quando ho giocato con una sola immagine facendo il test è andato in crash perché avevo lasciato qua nell'estrazione fisso il numero 3 e no dipende dal numero di immagini altrimenti poi abbiamo un problema di superamento dei limiti dell'array giustamente punito allora prendo il numero mg che è un decimal lo converto in un intero e uso quello per l'estrazione adesso possiamo fare la prova finale dunque con tre immagini ok con 4 che per me è il massimo forse è un po' troppo punitivo questo gioco va bene al banco caso limite mi prendo la mia rivincita sul gioco a voglio vedere se qua non vinco qualcosa mi dice che posso puntare tutto tiè ancora ancora e con queste stupidate finisco il video a risentirci che si Grazie.